di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta in nostra compagnia per la rassegna stampa sportiva di oggi una rassegna stampa che iniziamo con la prima pagina della gazzetta dello sport in apertura c'è l'Europa League con l'Inter che ha battuto il Rapid Vienna per uno a zero in trasferta gol di Lautaro ecco il titolo San Lautaro mal di Icardi il toro decisivo con Rapid si procura e realizza un rigore intanto Maurito va a fare fisioterapia e sui social l'ex capitano non si ferma dice meglio stare zitti ancora polemiche dunque con Icardi alla quale è stata tolta anche la fascia di capitano è stata data ad Andanovic vediamo solo velocemente l'articolo sulle pagine interne che è dedicato proprio a questo fatto tifosi con Andanovic c'è solo un capitano lui sono orgoglioso e anche Spalletti si coccola numero uno con la fascia Samira esperto e serio a personalità e professionalità ma ritorniamo sulla prima della gazzetta e vediamo anche l'analisi di Andrea Schianchi che dice è il simbolo del nuovo corso Nero Azzurro il Toro Lautaro si carica sulle spalle l'Inter e la trascina oltre il buio dell'ultimo periodo sabato al Tardini col Parma con i Nero Azzurri nel bel mezzo di una lunghissima stinenza da gol ha regalato una perla che valsa una vittoria ieri il gol decisivo in Europa League le altre italiane impegnate in Europa vediamo il Napoli eh contro Napoli che spugna Zurigo per tre a uno relax Napoli qualificazione ipotecata perde invece la Lazio in casa all'Olimpico per uno a zero contro il Siviglia la Lazio perde i pezzi il Siviglia senza pietà andiamo di spalla adesso dove invece si comincia a parlare di campionato perché questa sera ci sarà il la prima gara di questa giornata di campionato con l'anticipo tra eh Juventus e eh Frosinone la Juventus prossima settimana giocherà in Champions CR7 infaticabile in campo pure col Frosinone niente riposo in vista di Atletico Juve l'amico Tonito ricorda l'assist che gli fornì per la prima rete nello eh Sporting e poi tra le partite di questo turno di campionato anche la super sfida tra Atalanta Milan tra Zapata e Piontek Zapata sfida super Piontek alla fiera dei eh gol andiamo a vedere anche con l'aiuto della regia con l'aiuto della grafica tutte le partite in calendario in questa ventiquattresima giornata di campionato che come detto inizia questa sera con la gara tra Juventus e Frosinone alle venti e trenta e poi i due anticipi di eh domani Cagliari Parma alle diciotto e Atalanta Milan alle venti e trenta domenica il lunch match vedrà di fronte Spal e Fiorentina e poi il pomeriggio Empoli Sassuolo Genua Lazio Udinese e Chievo alle diciotto Inter Sampdoria alle venti e trenta Napoli e Torino e poi lunedì il posticipo serale tra Roma e eh Bologna queste le eh gare in programma in questo eh turno. Rimanendo sulla gazzetta dello sport vediamo nel taglio alto anche il titolo che anticipa una lunga intervista a eh Valentino Rossi che domani compie quarant'anni vale quaranta per dieci dice credo al decimo titolo e ora vorrei un figlio se sono in forma posso essere ancora il più veloce per Francesca e Dura mi deve dividere eh con tutti queste alcune parole di eh Valentino Rossi poi se avremo tempo nella seconda parte della nostra rassegna stampa sportiva andremo anche nelle pagine interne della gazzetta per leggere qualche particolare in più eh su questa eh intervista vediamo anche le aperture degli altri quotidiani nazionali il Corriere dello Sport titola anche qui sull'Inter in apertura il vicere mentre Icardi festeggia San Valentino postando una foto con Wanda l'Inter vince uno a zero a Vienna con un rigore di Lautaro il suo sostituto Maurito salterà anche la Samp ma Spalletti è sicuro non ci saranno eh problemi Moratti boccia la linea del club la decisione di cambiare capitano mi è sembrata eh inutile e poi vediamo Napoli bello di coppa Ancelotti sbanca Zurigo Lazio a pezzi battuta dal Siviglia perde tre titolare andiamo anche sulla prima pagina di eh tutto sport in questo caso vediamo il futuro di eh mister Allegri in apertura Juve Max è eh eh al bivio Allegri pensa solo alla partita di stasera con il frosinone e allontana i discorsi sul futuro qui sto bene ma non c'è nulla eh di certo ha detto Zidane e Klopp le piste più calde per l'eventuale eh cambio e poi anche qui è l'Inter di Lautaro ma Moratti stacconi carde chiudiamo tutto sport chiudiamo la nostra parentesi dedicata ai quotidiani nazionali e andiamo adesso sui eh quotidiani locali andiamo su messaggero Veneto eh piccolo e eh gazzettino per dare un' occhiata alle notizie che eh ci arrivano dalla nostra regione che riguardano innanzitutto la nostra eh Udinese vedo pronta però nel nostro monitor di eh servizio la nostra inviata in esterna la nostra Luciana Idelfonso e allora buongiorno Luciana ti cedo subito eh la linea e eh ti chiedo anche di raccontarci di dirci dove ti trovi buongiorno a te Sì buongiorno Angela tra i nostri telespettatori ci troviamo in via Cividale in questo momento non parleremo del traffico che comunque come puoi vedere è in tenso visto l'orario del mattino ma di quelli che sono i consigli di quartiere la città infatti da inizio febbraio si è dotata di questo nuovo organo composto da nove persone scelte tra maggioranza minoranza e liste civiche che ha anche un presidente e noi incontreremo quest'oggi il presidente di questa zona di Udine Udine che è stata divisa diciamo così in nove quartieri per iniziare il nostro viaggio tra quelle che sono le aree della città di Udine e capire al meglio quali sono le problematiche che è anche diciamo così lo scopo l'obiettivo della giunta Fontanini che ha deciso di restituire istituire nuovamente questo organo che non è più composto dal semplice rappresentante della circoscrizione ma da un vero nucleo di persone che possono ascoltare le necessità dei vari quartieri di città per poi riferirli alla giunta quindi a breve ti richiederemo nuovamente la linea che saremo in compagnia del presidente di questa zona della città a te perfetto grazie allora Luciana per la presentazione dell'esterna di oggi ritorniamo allora sui quotidiani ritorniamo sul messaggero Veneto e vediamo il titolo di apertura meno due al Chievo lo dice il calendario Udinese ora o mai più anche se la squadra anche se la strada scusate è in salita per tutti i bianconeri sono obbligati a far valere il fattore campo trasferte proibitive per l'Empoli Spal e Bologna in crescita guarda dunque alle tappe della corsa salvezza dei bianconeri l'articolo di apertura di oggi del messaggero Veneto condizione fisica condizione mentale qualità tecniche e calendario abbiamo scelto queste voci per passare ai raggi X le sette squadre in lotta per la salvezza nel Calderone abbiamo messo anche il Chievo che domenica sarà di scena al Friuli il Borsino dice che la Spal sta meglio di tutti e non solo per una questione di classifica i numeri sospettano che il Chievo sia spacciato in realtà le quotazioni in rialzo le quotazioni del Frosinone e l'Udinese il calendario è chiaro la salvezza passa per le partite in casa a cominciare da quella di domenica Udinese che in casa affronterà il Chievo appunto domenica il Bologna e poi il Genua in trasferta Lazio Juventus Napoli e Milan con la partita della contro la Lazio che sappiamo è stata rinviata questo è il titolo di apertura del messaggero Veneto di oggi nel taglio basso vediamo le designazioni arbitrali per Udinese Chievo è stato designato l'arbitro Paolo Valeri una vittoria in 15 gare al Friuli lo spauracchio Valeri torna Paolo Valeri sulla strada dell'Udinese torna al 39enne arbitro della sezione di Roma che quest'anno ha già diretto per due volte al Friuli e non senza macchia visto che nell'uno a uno di settembre col Torino annullò un gol regolare ai Granata mentre nella sfida di dicembre col Frosinone concesso un rigore molto dubbio ai Ciociari per contratto tra Econ e Ciano domenica assieme a Valeri ci saranno anche gli assistenti Paganessi e Baccini con Ross quarto uomo e col Triestino Giacomelli al VAR con Valeriani come assistente oltre ai due precedenti stagionali con Valeri l'Udinese conta una sola vittoria con sette pareggi altrettante sconfitte a completare un bilancio decisamente poco incoraggiante Voltiamo pagina e andiamo a vedere come stanno i bianconeri De Pola Riposo è in dubbio ritiro anticipato a questa sera l'eventuale assenza dell'argentino potrebbe spingere Nicola a cambiare modulo provato il 4-4-2 si pensa anche all'inserimento di Wilmot nella mediana A3 e poi c'è Kong alle prese con un affaticamento ma gli verrà chiesto di stringere i denti e allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato anche noi che realizzato la nostra redazione sportiva e che ci fa il punto proprio sull'allenamento di ieri dei bianconeri ma non solo vediamo Allenamento a porte chiuse per l'Udinese in vista della delegata partita casalinga di domenica contro il Chievo dopo la doppia seduta di ieri e in attesa della partenza per il ritiro anticipato nel pomeriggio di domani dopo la seduta la squadra è tornata a faticare questa mattina sul campo 4 del Bruseschi al riparo da occhi indiscreti un modo per alzare ancora di più la soglia di concentrazione e non lasciare nulla al caso innamorarsi dei particolari di ogni dettaglio questo è l'imperativo nella giornata degli innamorati e soltanto così si potranno evitare leggerezze sino a questo punto pagate a caro prezzo la gara contro il Chievo sarà da vincere ad ogni costo ne sono consapevoli Nicola e la squadra che infatti spingono forte sull'acceleratore dopo la fase di attivazione iniziata in palestra e conclusasi in campo la squadra si è concentrata su un ampio focus dedicato alla fase di finalizzazione vero tallone d'Achille sino a questo punto prima di dedicarsi alle prove tattiche top secret ed infatti il mister durante le esercitazioni era carichissimo nel chiedere a gran voce a tutti i giocatori non solo gli attaccanti la massima cattiveria agonistica possibile soprattutto sottoporta per capitalizzare al meglio ogni palagol contro il Clivensi infatti servirà essere cinici il più possibile in ogni fase di gioco e sfruttare ogni spiraglio che la squadra di Di Carlo particolarmente allegra in difesa nelle ultime uscite concederà ancora assente il capitano Valonberami le cui noi muscolari lo tengono fermo già dal finire della scorsa settimana avendolo costretto a saltare la gara col Torino e pregiudicando nel recupero per la partita contro il Chievo riposo precauzionale invece per Rodrigo De Paul che ha svolto delle terapie dopo il colpo alla caviglia destra rimediato nell'allenamento di ieri pomeriggio che l'è stromesso anticipatamente dalla seduta nulla di grave come hanno già evidenziato gli esami strumentali effettuati ieri tutti dall'esito negativo buone notizie invece che arrivano per il recupero di Samir che seppur non vicinissimo procede molto bene ed infatti il difensore brasiliano reduce dall'operazione legamenti della caviglia di fine novembre scorso si allena individualmente sul campo già da una settimana e quest'oggi lo ha fatto anche con il pallone e con maggiore intensità questo per quanto riguarda l'udinese intanto da casa a Chievo l'attaccante Giorgevic dice la pressione sarà tutta sull'udinese al Friuli possiamo vincere queste le parole dell'attaccante serbo del Chievo adesso ci fermiamo un attimo perché il momento degli aggiornamenti su traffico e viabilità e allora subito la linea al vice ispettore cristiano Beretta in collegamento telefonico con noi dalla centrale operativa della polizia locale di Udine buongiorno buongiorno la situazione del traffico al momento è regolare si sta intensificando verso la città però non ci sono particolari problemi non si vengono segnalati particolari problemi abbiamo per quanto riguarda lavori invece continuano quelli della fibra ottica nelle zone del centro storico con piccoli scavi locali che comportano solo dei restringimenti di careggiata e prosegue sempre come al solito la costruzione la realizzazione della pista ciclabile in Viale Palmanova nel tratto tra via della Cernaia e via Melegnano ecco questo è per quanto riguarda i cantieri lavori di oggi grazie grazie allora al vice ispettore cristiano Beretta per questi aggiornamenti in particolare sui lavori pubblici vediamo se siamo pronti per ritornare dalla nostra Luciana Idelfonso in diretta da via Cividale dalla zona del quartiere di San Gottardo la vedo in compagnia probabilmente della presidente del consiglio di quartiere Luciana voi sì ci ha anticipato bene ci ha raggiunto la presidente Anna Chiarandini per quanto riguarda San Gottardo e l'Aipacco allora presidente dicevamo questi comitati si sono istituiti da pochissimo la vostra avventura è partita a febbraio come sta andando e quali sono i punti su cui intendete concentrarvi? Allora in realtà siamo nati siamo stati eletti proprio questo lunedì quindi siamo ancora in fase di organizzazione comunque alcuni consiglieri mi hanno già mandato delle mail per segnalare delle criticità nelle loro vie perché ognuno appartiene vive in una via specifica e quindi cercheremo di portare avanti queste segnalazioni portarle proprio all'attenzione del sindaco. Uno dei problemi principali è proprio la viabilità in questa zona della città. Quali sono le richieste? Allora faccio un esempio eh via del Bon richiede assolutamente qualche qualche intervento di tipo non dico dissuasori insomma la soluzione tecnica la prenderanno i tecnici del comune comunque qualche deterrente per le velocità folli delle auto e dei motocicli che attraversano questa via e anche l'illuminazione mi pare sia scarsa. Sempre in via del Bon mi pare si voglia fare anche qualcosa per i giovani eh riattivare dei delle attività sportive tipo la palacanestro eh per impegnarli in qualcosa di di importante di costruttivo. Quindi viabilità e punti di aggregazione potrebbero essere diciamo le due tematiche da cui partire da questo quartiere della città per poi eventualmente affrontare anche quali altri argomenti? Beh attività di coesione di incontro anche per gli anziani cioè cercare dei punti di ritrovo dove magari creare fare dei corsi fargli giocare anche a briscola insomma fargli passare qualche ora in allegria quindi coinvolgeremo sicuramente anche questa realtà. Presidente lei è d'accordo con questa idea di Fontanini che c'è bisogno di creare maggiore connessione magari maggiore comunicazione tra i vari quartieri della città e quello che poi è invece il punto centrale quindi la giunta. Assolutamente eh io sono favorevolissima alla collaborazione di tutti a prescindere dall'appartenenza politica per il miglioramento di tutti i quartieri e credo che otterremo degli ottimi risultati. E allora con questo ti restituisco la linea e verremo presto a ritrovare di nuovo la Presidente per vedere come vanno i lavori in corso. A voi la linea. Grazie, grazie a Luciana Idelfonso per questo collegamento. Allora rientriamo in studio, ritorniamo sui quotidiani di oggi dal Messaggero Veneto passiamo alle pagine del Gazzettino, il Gazzettino del Friuli. Anche qui vediamo in eh primo piano le eh un titolo su eh De Paul, De Paul che stringe i denti, ora eh preoccupa eh Econ per quanto riguarda De Paul scongiurato il rischio di lesioni alla caviglia. L'argentino pur dolorante dovrebbe recuperare noie muscolari per il difensore olandese che potrebbe alla fine anche dare eh forfè. E vediamo le prime righe dell'articolo di eh Guido eh Gomirato. Rialzati e cammina anzi corri. Rodrigo De Paul reduce dalla forte contusione alla caviglia destra potrà giocare contro il Chievo anche se ieri mattina per precauzione non si è allenato. Gli ulteriori accertamenti strumentali cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo anche se la caviglia è ancora dolente. A questo punto l'ultima parola aspetta all'argentino ma in un momento così delicato l'udinese ha bisogno di lui e lui non può chiamarsi fuori. Del resto se va in campo non rischia nulla. Per Rodrigo la sfida con il Chievo rappresenta anche la ghiotta opportunità di riscattare la scialba prestazione di Torino. Di rifarsi dopo aver favorito il successo dei Granata prima perdendo palla sulla corsia di destra da cui è stato effettuato l'assist di Belotti per il colpo di testa vincente poi per aver sbagliato l'esecuzione del calcio di rigore al trentaquattresimo della ripresa. Davide Nicola lo sta pungolando ha sempre finuccia del giocatore per cui nel momento più delicato De Paul deve dimostrare l'attaccamento alla maglia. Oggi la squadra appunto si allenerà il pomeriggio e poi nel taglio alto vediamo febbraio addio per Valon Berami una lesione all'adduttore destro che rischia di costringerlo a rimanere fuori per almeno due settimane. E poi vediamo anche questo articolo di Guido Gominato che ci fa fare un salto, un tuffo nel passato quando il Chievo era l'avversario per la Coppa UEFA quando entrambe le squadre lottavano per stare in alto e questo è l'articolo che troviamo di spalla. Rimaniamo sulle pagine del Gazzettino ma parliamo di Pordenone parliamo di Pordenone perché i Neroverdi si preparano per la trasferta di domani contro il Renate il titolo del Gazzettino è questo Ramarri la sfida del Diablo. Granocce spinge la Triestina e dice il Pordenone ha allungato in classifica ma noi lotteremo sino all'ultima giornata. Galliani adesso il Monza è la squadra più forte della C, Feralpi, Imolese e Ternana tocca a Gallo non si arrendono. Fa dunque il punto sulla corsa promozione questo articolo del Gazzettino. 9 punti di vantaggio sulla Triestina, seconda 10 sulla Feralpi Salò, 11 sull'Imolese, 14 sul Monza di Berlusconi addirittura 21 sulla Ternana che avrebbe dovuto sbaragliare la concorrenza. Il tutto a sole 12 giornate dalla conclusione della stagione regolare. Dovrebbero bastare per far dormire sonni tranquilli a tutti in casa neroverde e far alzare bandiera bianca nelle altre sedi. Invece non è così. Tesser non molla e tiene altissima la concentrazione dei suoi altrove si fantastica di clamorose rimonte. E poi vediamo tutti i vari paragrafi dedicati a Terni, Monza, Imola, Salò e Trieste. Guardando invece alla sfida di domani il Renate di Diana arriva da nove risultati positivi. E vediamo le prime righe dell'articolo anche qui già fatta, non diciamo assurdità. Ci mancano ancora 12 battaglie, le dovremo affrontare una alla volta con la massima concentrazione come abbiamo fatto sino ad oggi. Attilio Tesser odia i voli pindarici e le previsioni scontate in programma nel fine settimana, ricorda il tecnico, abbiamo una sfida importantissima e difficilissima con il Renate al Città di Meda. Appuntamento domani alle 16 e 30. questo per quanto riguarda il gazzettino ma andiamo anche sul messaggero veneto e vediamo anche qui l'articolo dedicato al Pordenone, un articolo focalizzato sull'autore del gol dell'ultima vittoria che ha portato l'ultima vittoria del Pordenone, Candellone, un cuore granata per portare in alto i neroverdi. Cresciuto nelle giovanili del Toro, tra i suoi modelli c'è il Gallo Belotti, vice capocannoniere del girone, è una scommessa vinta da Matteo Lovisa. Lo scorre dice nove reti, vice capocannoniere del girone B di serie C tra i giovani e un classe 1997, soltanto Dani Mota della Virtus Sentella ha fatto meglio di lui in categoria. Sono questi i numeri che di Leonardo Candellone, attaccante del Pordenone, tra le più belle scoperte dell'annata del team cittadino e dell'intero campionato, ma oltre alle cifre ragguardevoli che indicano solamente in parte cosa fa il calciatore durante la partita, chi è il centravanti neroverde scommessa vinta da Matteo Lovisa? Il giocatore del momento lo si può riassumere in tre parole chiave, studio, granata e famiglia. E poi vediamo tutto l'articolo che racconta appunto Candellone. Per la gara di domani, ballottaggio Magnaghi-Ciurria in attacco, ci dice questo titolo e poi invece anche qui il passaggio sul Renate, nelle file delle Renate, reduce da nove risultati utili di fila, militano Spagnoli e Finocchio. Ecco qua il titolo. Rimaniamo sulle pagine del messaggero Veneto, ma cambiamo sport, andiamo a parlare di sci, vediamo come sta andando il cammino di Elisa Vitozzi nella Coppa del Mondo, Vitozzi contro Wierer, round negli Stati Uniti a Dorotea, Elisa brava a difendersi, fatale alla Sappadina nello sprint di Coppa, un errore al tiro. Finisce dodicesima e a me è a meno dieci punti dall'azzurra, le altre si avvicinano. Questo per quanto riguarda il biathlon. Andiamo adesso a parlare di basket, andiamo a parlare di GSA e vediamo anche qui i titoli sulla stampa di oggi. Eccolo qua, GSA stai attenta alla cenerentola, troverai una squadra trasformata, precipitata all'ultimo posto e senza il faro James White, Cento ha cambiato volto. Taylor, nuovo arrivato da Torino, è uno dei punti di domanda. Giocherà domenica? Questo è il titolo che presenta appunto la sfida di domenica tra Udine e Cento. Con la sconfitta di domenica scorsa in casa contro Cagliari, la Balturcento ha toccato il fondo della classifica, ma l'ambiente emiliano è in fermento e intende ribellarsi alla parabola discendente iniziata già a metà girone d'andata. Chi si attende una passeggiata di salute sul campo del fanalino di coda del girone est è meglio che riveda le proprie convinzioni, scrive il messaggero. L'ambiente della neopromossa in fermento, i tifosi pungolano la squadra. Le ultimissime da casa GSA, Cortese e Pinton ancora acciacchiati, ma ci saranno. Amore per Udine, alla fine è sempre una questione di cuore. L'acronimo APU ha ispirato gli addetti ai social GSA San Valentino per un augurio agli innamorati udinesi. Per quanto riguarda invece appunto le notizie dal campo, ieri Pinton non si è allenato per la febbre, ma ci sarà domenica. Cortese migliora in crescita la condizione di Spanghero e Simpson. Due news di mercato a est, il play Tommaso Marino Varavenna, Treviso firma il lungo Luca Severini. E poi domenica a 100 ci saranno anche una cinquantina di tifosi del settore D con il settore D in pullman per tifare APU. E queste appunto le ultime che riguardano la GSA. Chiudiamo queste pagine del messaggero Veneto, chiudiamo questa parte di rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali e ci colleghiamo come sempre con gli esperti dell'Osmer Arpa perché questo è il momento delle previsioni del tempo e allora subito un saluto e la linea ad Arturo Puccillo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora queste quote medio-alte. Oggi poi temperature massime saranno intorno ai 15 gradi su costa e pianura. Quindi valori tutto sommato piuttosto miti quasi quasi direi primaveri. Temperature che aumenteranno anteriormente anche nella giornata successive, già domani con un cielo in genere sereno poco nuvoloso per il passaggio di qualche nuvolamento ad alta quota nel corso della giornata. Però appunto con temperature ancora relativamente fresche di notte in qualche locale gelata in pianura, più miti sulla costa naturalmente. Montagna, vero termico 2.700 metri con marcate inversioni quindi decisamente più freddo al mattino a fondo valle che in quota. Temperature poi miti in giornata anche 16 gradi sulla pianura. Per quanto riguarda la giornata di domenica ci aspettiamo ancora sereno ma si avvenseranno delle medie su basse pianura e costa in particolare sulla fascia lagunare e potrebbero già insorgere nella notte tra sabato e domenica ma saranno più probabili da domenica sera e poi su lunedì. lunedì appunto che sarà una giornata piuttosto umida nelle zone basse quindi basse pianura e costa con nebbia rubi basse che potrebbero persistere anche durante il giorno. Invece ancora ce ne osservano forse a secca e temperature decisamente miti per quanto riguarda alta pianura, rilievi e poi naturalmente in montagna. E non si vedono attualmente grandi cambiamenti se non forse un pieno abbassamento delle temperature la settimana prossima ma sempre in un probabile regime di alta pressione. Ne riparleremo. Grazie allora ad Arturo Pucillo per queste previsioni del tempo che almeno per il fine settimana sono buone, sono positive. E allora prima di salutarci apriamo una piccola parentesi dedicata a un'iniziativa che è stata presentata nel pomeriggio di ieri e che ha visto protagonista anche un giocatore dell'Udinese Marco D'Alessandro presente a un incontro tenutosi all'oratorio San Giuseppe di Udine per la Junior Team Cup. Un evento che vuole esaltare i valori dell'educazione alla lealtà e alla correttezza sugli campi di gioco che è giunto alla sua settima edizione. Ne abbiamo parlato con il responsabile del settore giovanile calcio della Cisbor, Luca Peruli. Sentiamo l'intervista. È un'attività che anche a livello della provincia di Udine, in Udine stessa, avendo l'udinese, coinvolge comunque gli oratori locali. Indubbiamente è un'attività che, come dicevo, porta avanti dei valori importanti. Secondo me dobbiamo veramente cercare di diffondere questi valori, diffondere sempre di più nei settori giovanili questa necessità di togliere un po' l'esasperazione che c'è nel mondo del calcio. Si vede troppa, troppa tensione sui campi di gioco e soprattutto noi adulti dobbiamo necessariamente darci una regolata, diciamola tutta. Siamo un esempio per questi ragazzi, cerchiamo di essere un esempio positivo, non come succede nei campi di gioco che spesso vediamo adulti che urlano questi ragazzini e se la prendono spesso con arbitri e quant'altro, cercando sempre un modo per giustificare se le cose non vanno bene in campo, prendendosi con chi magari non ha colpa. Tutti gli oratori che intendono partecipare hanno l'opportunità quindi di partecipare a questo sorteggio in cui due oratori vengono individuati e sostanzialmente partecipano a questo pregara. È un momento meraviglioso, onestamente anch'io è da anni che partecipo accompagnando i ragazzi, però ogni qual volta entro in quel spettacolo di stadio veramente sono emozioni uniche. Per questi ragazzi poi ancora di più, indubbiamente credo che sia un sogno per tutta la vita. Un'iniziativa che come sempre anche quest'anno è abbinata anche a un'iniziativa di beneficenza, lo andiamo a sentire. Anche quest'anno portiamo avanti il progetto parallelo campioni nella vita, è un progetto che riteniamo meritevole di attenzione e soprattutto speriamo che gli oratori ci partecipino, anche perché è libero ovviamente non c'è obbligo, però la risposta c'è ed è interessante. Cosa devono fare? Sostanzialmente ogni oratorio ha la possibilità di preparare un'attività in ambito sociale, in ambito diciamo così oratoriale oppure in ambito, diciamo, nell'ambito, non so, di casi di riposo, di centri di accoglienza, cose del genere, che permettano a questi ragazzini di entrare in contatto con queste persone e di mostrare effettivamente che valori possiamo portare avanti con lo sport al servizio dei più bisognosi o comunque può anche essere un'attività svolta all'interno dell'oratorio stesso al servizio della comunità. Una bella iniziativa dunque, abbiamo visto anche appunto da Alessandro che ha firmato tanti autografi nella serata di ieri in queste immagini. Siamo in chiusura, allora vi ricordo come sempre gli appuntamenti principali di oggi su UD News TV, ecco la locandina che ci ricorda l'appuntamento delle 21 con un a tu per tu con l'assessore regionale alla salute Riccardi Riccardi, un approfondimento curato da David Zanirato che si concentrerà in particolare sugli interventi per contenere la spesa sanitaria regionale e poi alle 22 per la serie le case dello sport a cura di Guido Gomirato, questa sera vedremo lo stadio del rugby Otello Gerli di Udine. Ed è tutto per il momento, noi ci rivediamo alle 11 per il nostro Tg, vi lascio in compagnia di Guido Gomirato con il consueto accade oggi. Buona giornata a tutti. Il 15 febbraio del 1973 nasce a Castellammare di Stabia Raffaele Ametrano, bianconero per due stagioni dal 94 al 96 ed ha contribuito nel 94-95 alla promozione in A dell'Udinese e l'anno dopo agli ordini di Zaccheroni ha dato un contributo notevole per la comoda salvezza conquistata dalla sua squadra. La stagione migliore di Raffaele Ametrano in bianconero è stata sicuramente la seconda, tant'è che è entrato nel giro della nazionale Under 21, di lui si sono occupati anche i grossi club, alla fine approderà la Juventus dove però non avrà fortuna. Per quanto riguarda la nazionale Under 21, nel 1996 ha disputato la finalissima dei campionati europei Italia-Spagna, vinta di misura 1 a 0 dagli azzurri ed è stato lui a propiziare il gol della vittoria dato che la sua conclusione a rete ha propiziato un autogol da parte delle furie rosse iberiche. Dopo la breve parentesi con la Juventus, una partita soltanto nel 96-97, Ametrano ha un po' fatto il giro dell'Italia e ha trovato spazio e un po' di gloria soprattutto quando ha giocato nell'Avelino. Ricordo comunque che ha militato anche nel Verona, nell'Empoli, nel Genoa e è ritornato a Napoli dove era cresciuto nel vivaio della squadra partenopea ed era anche uno dei fedelissimi dei raccatapalle del Napoli. Io sono andato a Castellamare, a Castellamare. Ti piace giocare a Napoli? Sì. Io sono andato a Castellamare.